Il tracciamento audio tramite ultrasuoni è uno dei metodi più recenti per spiare il comportamento degli utenti di dispositivi elettronici e ottimizzare la pubblicità. Finora non esistevano praticamente modi per difendersi da questo fenomeno. L'applicazione Sony Control cambia tutto questo, l'applicazione è sviluppata nell'ambito di un progetto dell'Università di Scienze Applicate. Di Polter richiama l'attenzione sullo spionaggio acustico e lo blocca se lo si desidera. Si tratta del primo firewall a ultrasuoni al mondo, un altro passo importante verso la protezione della privacy e la sicurezza dei dati. Sony Control è l'ultima app per la protezione della privacy e dei dati personali Mattias Zeppelzo e, l'app Sony Control richiama l'attenzione sui cookie acustici Sony Control, applicazione gratuita per Android Un'app chiara per proteggere la vostra privacy Un nuovo firewall contro le nuove forme di sorveglianza prezzi e disponibilità Sony Control Ulteriori informazioni sulla protezione Della privacy nella casa intelligente l'app Sony Control richiama l'attenzione sui cookie acustici. L'uso costante di dispositivi elettronici come gli smartphone sta portando a nuove forme di sorveglianza. Una di queste è il tracciamento incrociato dei dispositivi tramite suoni ultrasonici non udibile. In questo modo è possibile collegare diversi dispositivi e trasferire informazioni da uno all'altro. È anche possibile tracciare il comportamento degli utenti su diversi dispositivi finali. Ciò consente di personalizzare meglio la pubblicità. Il problema è che la maggior parte delle persone non è a conoscenza di questa forma di spionaggio. E anche se lo sanno, finora non esistevano praticamente modi per difendersi da questa forma di spionaggio. È qui che entra in gioco il progetto Sony Control dell'Università di Scienze Applicate di ST Polten. Con l'omonima app, il team di ricerca permette di rilevare i cookie acustici e di bloccarli direttamente. Google Home Mini, Gesso ottieni le ultime informazioni su meteo, traffico, finanza, notizie e sport disponibile a partire da 69,95 euro al negozio a partire da 20,11. 2023 Sony Control, applicazione gratuita per Android. L'applicazione sviluppata da Sony Control è specializzata nel rilevamento di biscotti acustici e nell'informare gli utenti del relativo dispositivo. Il funzionamento si basa su speciali metodi di elaborazione del segnale per la banda di frequenza degli ultrasuoni. Se gli utenti desiderano bloccare i segnali, l'applicazione invia segnali di interferenza attraverso l'altoparlante del dispositivo mobile. In questo modo, impedisce alle applicazioni o al sistema operativo di accedere ai cookie acustici. Gli utenti hanno la possibilità di bloccare i singoli segnali indipendentemente l'uno dall'altro, una volta o in modo permanente. La funzionalità del telefono cellulare rimane completamente intatta. Sony Control è attualmente disponibile come applicazione gratuita per Android. Il team di Sony Control sta già lavorando per sviluppare ulteriormente la tecnologia di protezione contro lo spionaggio. Contro il tracciamento audio e i cookie acustici, Sony Control nel laboratorio di ricerca della SAP DST. Polten, Mattias Zepelzo e, un'app chiara per proteggere la vostra privacy. L'applicazione Sony Control è la prima al mondo nel suo genere. Ha attirato una grande attenzione da parte dei media e degli utenti di smartphone. L'applicazione si distingue non solo per la sua efficienza, ma anche per la facilità d'uso e la chiarezza. L'obiettivo è quello di aprire nuove strade per la protezione della privacy. Sony Control mira anche ad attirare l'attenzione sul tema, spesso trascurato, del tracciamento acustico. Dopotutto, molte persone non sono nemmeno consapevoli dell'esistenza di questa forma di spionaggio. E poiché i suoni ultrasonici sono impercettibili all'orecchio umano, è particolarmente difficile intervenire. Conclusioni, un nuovo firewall contro le nuove forme di sorveglianza. Il progetto UAS di Poltein merita l'attenzione che ha suscitato, se non altro perché sensibilizza le persone sul tema dei cucchi acustici. Con ogni probabilità, in futuro questo aspetto diventerà ancora più importante per fornitori come Google. Ciò aumenterà anche l'importanza delle offerte per la difesa. Attualmente Sony Control è l'unica in questo ambito. Attualmente Sony Control è l'unica in questo ambito.